Amatori Napoli Rugby, trasportiamo ambizioni fino alla meta. Alvia la nuova stagione 2021-2022 in Serie A per Capitano Alessandro IV e compagni. Si parte, o meglio si riparte, finalmente pallovale. Dopo 18 mesi di stop forzato, l'amatori Napoli Rugby ritorna in campo. Sì, finalmente ci siamo, ripartiamo con questa splendida maglia che per noi ci ha disegnato Fermariello, un artista napoletano che segue e ci sostiene il nostro percorso. La maglia per noi è fondamentale, ogni ragazzo lavora duramente per poter conquistarsi la possibilità di giocare con questa maglia. Per cui riusciremo a ripartire ancora più forti con queste stupende maglie. Trasportiamo ambizioni fino alla meta. Parte questa bellissima avventura tra GLS e amatori Napoli Rugby. Sì, siamo molto felici, molto orgogliosi di questa opportunità perché noi siamo vicini allo sport, siamo vicini al sociale e quindi abbiamo subito accettato con molto piacere l'invito e la proposta che ci è venuta dalla società Amatori Rugby che quindi vogliamo dare un contributo e speriamo che il Rugby, che è uno sport bellissimo, nobile, di antiche tradizioni, possa ritornare a Napoli a ricoprire un ruolo che peraltro ha sempre ricoperto negli anni passati. Una bella sinergia che guarda al futuro. Sì, infatti, una rinascita della nostra città, un ritorno della nostra città sui palcoscenici italiani con il rugby ma anche con il basket che ci vede anche lì impegnati con il calcio che fortunatamente ci sta sempre dando grandi soddisfazioni significa anche questo portare Napoli nei palcoscenici giusti italiani di primo livello.